Di glorioso, il Silvio Piola non ospita solamente la Provercelli di Calcio, ma anche la Provercelli Scherma. Nella sua ultracentenaria storia può infatti vantare tantissime vittorie dei suoi atleti, compresi diversi allori olimpici. E accanto alla tradizione c'è anche un presente ed un futuro assai radioso, rappresentato dalla 19enne Federica Isola, fresca campionessa europea individuale di Spada Under 20. Oltre al titolo continentale, Federica, tesserata per l'aeronautica militare, ha trascinato le compagnie nella vittoria del mondiale a squadre all'inizio di aprile e viene da quattro anni di continui successi in campo internazionale. Non solo, ma la prossima settimana sarà l'unica Under 20 convocata al ritiro della prima squadra della nazionale a Parigi. Ovviamente questi risultati presuppongono impegno e sacrificio. Federica, che frequenta il liceo scientifico e fra due mesi sarà impegnata nell'esame di maturità, si allena tutti i giorni, dalle 13 alle 14.30 la preparazione atletica e dalle 18 alle 19.30 la parte tecnica con la spada, senza poi contare weekend, quasi tutti dedicati alla scherma, fra gare nazionali, internazionali, ritiri ed allenamenti federali. Abbiamo incontrato Federica prima di un allenamento al Silvio Piola e oltre che dimostrare concentrazione e attaccamento per il suo sport, si è rivelata anche una ragazza umile e disponibile, nonostante i suoi precoci successi. La scherma ho iniziato grazie a mio papà, mi praticava la scherma anche lui, è iniziato all'età di sei anni ma all'inizio non mi piaceva molto perché ero l'unica bambina. Poi dopo quattro anni ho iniziato a fare finalmente le gare e la mia prima gara è stata a Pinarolo che si è andata a seconda e da lì è iniziata una passione. Facevo sci che all'inizio mi piaceva molto e andava forse anche un po' meglio. Poi quando la scherma è iniziata a diventare un po' più impegnativa a livello agonistico ho lasciato lo sci perché avevo anche paura di farmi male. La vittoria più importante è stata quella di Udine che è una gara di Coppa del Mondo che magari non è quella più importante perché gli europei sono più importanti, però quella gara lì me la ricordo benissimo perché sono andata lì con mio papà da soli ed abbiamo autorizzato questa gara come un premio per la mia stagione ed ero la più piccola perché ero l'Under 17 e ho vinto questa gara di Coppa del Mondo Under 20 dove era una cosa abbastanza inaspettata. Una figura essenziale per Federica è poi Massimo Zenga che la conosce e allena fin da piccola essendo anche un caro amico di famiglia. Massimo, insignito del premio seminatore d'oro come miglior maestro di spada dalla federazione italiana Scherma, è per lei infatti quasi un secondo papà, definizione della stessa Federica. L'allena da quando ha iniziato il rapporto è strettissimo per il fatto che la prima volta che l'ho presa in braccio aveva 4 giorni, quindi è molto amico del papà e della mamma, quindi poco per volta abbiamo portato in palestra e adesso ho un rapporto quotidiano con lei, ho molto spesso in trasferta in giro sia nelle gare italiane che in quelle di Coppa del Mondo, quest'anno abbiamo fatto gli europei in Russia, l'ho seguita anche i mondiali a Verona, quindi c'è un rapporto veramente molto stretto, molto particolare per il fatto che mi accorgo subito quando arrivi in palestra la sera, pomeriggio e ha la luna storta o è contenta, quindi per quello ci sono questi piccoli particolari che altri colleghi non vedono quando la seguono, non ci sono io, ma io mi accorgo subito quando c'è su qualche giornata un pochettino più storta delle altre.